Musica Serie D, il Gubbio riprende ad allenarsi in vista della gara interna con i Ponzacco, 7 di riscatto anche per Foligno, Città di Castello e Guardo Casacastalla, Serie B in campo alle 20.30 il Perugia nel recupero con il Vicenza. Eccellenza la diciottesima giornata, tutti pareggi per le squadre di testa, risale l'Angelana che fa suo il derby di Bastia grazie a Super Pica. Tennis annunciato a Gubbio nel prossimo agosto, il torneo ATP Future International. Buonasera e bentornati con il TG Sportivo, la Serie D in apertura con il Gubbio che è tornato ad allenarsi nel pomeriggio dopo la sconfitta di Gavorrano. Ora nel mirino c'è la gara interna con i Ponzacco, partita che diviene fondamentale non fallire per mantenere ambizioni d'alta classifica. Lavoro prettamente atletico e partitelle a pressione per il Rosso Blu, con il portiere Volpe che ha svolto una seduta di scarico in palestra, mentre tutti gli altri elementi hanno lavorato sul terreno dell'antistadio. Mister Maggi non potrà contare sul lapiedato croce, ma ritrova Ferretti e avrà la possibilità di schierare per la prima volta l'ultimo acquisto di Maio. L'ex centrale difensivo di Nocerini a Rimini partirà quasi certamente dal primo minuto, assieme ad uno tra Marini e Schiaroli, mentre Calombo scalpita per un posto sulla corsia a destra, ha visto il probabile avanzamento a centrocampo di Bartoccini. Sempre in mediana, Cuccia contende la maglia Bouali, Ferretti tornerà a giostrare sul tre quarti a supporto di Zuppardo ed uno tra Ferri Marini e Crocetti. Ha ripreso dalle Narzi anche il città di Foligno in vista della sfida delle Blasoni in programma domenica contro la Colligiana. I bianco-azzurri vogliono dimenticare al più presto lo stop subito a Ponzacco con mister Battistini che dovrà fare a meno oltre ai lungodegenti Santucci e Urbanelli anche al difensore Gennari che in terra toscana è incappato nella quinta munizione che dunque prelude ad un turno di squalifica con fa per due pronto a rilevarlo. Lavori ripresi anche per città di Castello e Gualdo Casa Castalda. I tifernati dopo la sconfitta di Montemurlo cercano il riscatto nel derby casalingo con la Voluntas Spoleto che sarà anticipato a sabato 23 alle ore 15 mentre i Gualdesi, reduce dalla Beffarda, caduta interna con i Ghivizzano preparano lo scudetto diretto a domicilio dello Scandicci. Sicura l'assenza in difesa dello squalificato Marani, il tecnico Bocchini ritrova però sgambato. Andiamo in Serie B. In campo questa sera alle 20.30 al Curile Perugia per il recupero con il Vicenza gara rinviata, lo ricorderete, lo scorso 27 dicembre a causa della nebbia. Mister Bisoli non può contare sugli squalificati Belmonte e Spinazzola oltre che sugli infortunati Alassane, Delprete e Guberti. Davanti al portiere Rosati linea difensiva 4 con Comotto, Volta, Mancini e Rossi. A centrocampo terzetto composto da Taddei, Della Rocca e Zebli mentre in attacco Tridente con Drolet e Parigini a supporto di Ardemagni. E' convocato anche il terzino destro croato classe 93 Matomilos appena arrivato dallo Spezia. Scendiamolo in eccellenza per fare il punto sul campionato arrivato alla diciottesima giornata. X-Factor, il diciottesimo turno del campionato di eccellenza, è segnato dai pareggi soprattutto per le tre formazioni di vertice. La capolista Trestina impatta a reti bianca Massamartana, un risultato che vale molto più del punto agguantato considerando che gli altri tiberini hanno rischiato di capitolare al 62esimo quando Santinelli commette fallinare su Montecchiani. Rigore calciato con un rivedibile scavetto da Manni e Nicola Ceccagnoli di piede respinge. Inoltre le inseguitrici non ne approfittano restando sempre a 4 punti di stacco con il Villabiagio fermato sull'1-1 dal Cannara e la Subasio beffata in zona Cesarini dal Ventinello al Felici. Gli Assisani vanno subito sotto dopo pochi secondi, quando Catani recupera palla e lancia in profondità a Regnicoli che salta secco Petterini ed infila il portiere Fasci non esente da colpe. Il pare Assisano arriva di fatto in fotocopio di inizio ripresa, recupero e filtranti in profondità di Gramaccia per Porricelli che di sinistro incrocia sul secondo palo. Al 29esimo sorpassa è seguito con i Sotti che da terra serve Gramaccia, altro assista al bacio per il non entrato a Meti che con un tocco sotto misura batte Zucconi. Il Ventinello però non vuole saperne di mollare e trova il definitivo 2-2 in pieno recupero quando Pinazza alza un pallone a Calpanile pescando in pienare a Regnicoli, prova a deludere il fuorigioco e a battere ancora Fasci per la doppietta personale. Vinci il rimonta 2-1 invece Sanzisto contro Castel del Piano per tre punti che permettono all'undici di Giacchetti di sorpassare in classifica proprio il rosso-blu e dissarsi in quarta piazza. Sale in sesta posizione invece l'Angelana che trionfa per 3-1 nel derby con il Bastia al Comunale trascinata da un pica formato gigante. L'attaccante Campano rifi il vantaggio al 29esimo con un tocco di puro opportunismo sfruttando un lancio lungo di Sisani e l'errato posizionamento della linea difensiva Bastiola. Sette minuti dopo l'arbitro Repetto di Chiavari punisce con il calcio di rigore la collisione in area tra Fuscagno e Menichini. Dal dischetto va lo stesso Menichini che ristabilisce la parità festeggiando il traguardo e i 200 gol in carriera. In avvio di ripresa pica raccoglie un lancio lungo sulla o di destra e lascia partire un insidioso tiro cross che, complice anche il vento, inganna il portiere Martelli comunque non impeccabile nella circostanza e ancora pica completa l'opera portandosi a casa il pallone al 62esimo quando spara un grandesto da fuori aria sul primo palo sfruttando ancora però un'altra incertezza di Martelli non certo nella sua giornata migliore. In chiave salvezzi inoltre importante successo esterno anche per Torgiano che viola 2-0 il terreno della Ponte Vecchio e tre punti d'oro anche per il Todi che regola 2-1 la Narnese. Finisce in parità invece il duello tra il fanalino di Coda Trasimeno e Petrignano. Passiamo ora al volley appena 48 ore dopo la vittoria in campionato con Milano è già ripartita la carovana della Sirres Feticonad Perugia che è atterrata nella giornata odierna in Germania. Domani alle 18.30 i bianconieri affronteranno in terra teutonica il Duren per l'andata del terzo turno di Coppa Cev con match di ritorno fissato per mercoledì 27 alle 20.30. Al poli evangelisti e poi in mezzo ci sarà la Superlega con il big match di sabato a Trento con un autentico tour de force dove il sessetto di Cova ci ha chiamato ad esprimere tutto il suo valore. Chiudiamo con il tennis. Tempo di cena dei soci presso l'hotel Busone Garden per il circolo tennis Gubbio che ha annunciato un'epocale novità in soffitta all'open città di Gubbio dal prossimo agosto al via il torneo ATP Future International e allora tutti i dettagli ve li anticipiamo nel nostro servizio. La cornice dell'hotel Busone Garden ha fatto la sfonda alla cena sociale del circolo tennis Gubbio con la quale il sodalizio di via Leonardo Ravinci ha voluto chiudere seppur con qualche settimana di ritardo voluto per evitare la coincidenza con le tante abbuffate del periodo natalizio. L'anno solare 2015 festeggiando i tanti riconoscimenti riportati da atleti e dallo stesso sodalizio nelle varie manifestazioni a cui il CT Gubbio ha partecipato. Tra queste spicca certamente il torneo Open Città di Gubbio che da anni a questa parte caratterizza l'estate degli appassionati ogubini della racchetta e che ricorderà l'edizione 2015 come l'ultima di una serie che dura da ben 37 anni. L'open va quindi in pensione e lascerà il posto alla novità assoluta del 2016 del sodalizio del presidente Ceccarelli ovvero il Future International torneo ATP per il quale già in moto la macchina organizzativa la manifestazione valida anche come memoria al Francesco Ledda si svolgerà dal 13 al 21 agosto e vedrà un monte premi di 10.000 dollari e soprattutto la partecipazione di 12 atleti ATP su un totale di 32 pretendenti al titolo con il 13 e il 14 giorni dedicate alle qualificazioni degli ultimi 4 ATP che accederanno al tabellone di gioco. Grande ovazione e applausi scroscianti quindi per tutta la dirigenza che dopo alcuni anni di tentativi è riuscita nel difficile compito di inserirsi in una delle date predisposte per questi tipi di torneo con l'obiettivo dichiarato di ripetere l'esperienza della prossima estate anche negli anni futuri. Nel corso del convivio che ha visto 200 persone partecipare la consegna di riconoscimenti per dirigenti, maestri ed atleti in particolare per Giorgio Materazzi, vincitore del torneo sociale l'accoppiata Bossi-Ledda, vincitrice del torneo di doppio Andrea Militi, premiato come miglior atleta dell'anno e Francesco Baldinelli come miglior giocatore sociale progredito Il tutto con uno sguardo anche al prossimo campionato di Serie C dove il Cittigubbio vorrà essere protagonista il torneo prenderà il via tra marzo e aprile e in attesa dell'ufficializzazione delle date si sta lavorando all'allestimento della squadra con la conferma in toto degli atleti della scorsa stagione cercando però al tempo stesso qualche innesto che possa fungere da valore aggiunto per Capanelli e compagni La novità del 2016 per il nostro ciclo è certamente il primo torneo internazionale Città di Gubbio future da 10.000 dollari più ospitalità per la prima volta affrontiamo questa nuova esperienza un'esperienza di tennis professionistico mutuata da tutto quello che è successo a Todi negli anni passati e per quest'anno nel 2016 dal 13 agosto avremo il primo nostro torneo internazionale il future è il primo step di tornei ATP tornei a cui hanno partecipato tutti i migliori giocatori del mondo da Djokovic a Federer a Nodal e rappresenta per noi veramente una grandissima sfida credo che il 2016 sarà per il nostro circolo tennis veramente centrato su questo nuovo torneo Allora è davvero tutto per questo nostro appuntamento informativo dedicato allo sport mi lascio alle repliche di questo TG ancora le informazioni targate TRG e poi l'approfondimento del TRG Plus domani mattina dalle 7.30 se vorrete vi aspetto per leggere insieme i quotidiani regionali come sempre vi ricordo che potete seguirci i streaming attraverso il nostro sito trgmedia.it grazie e buona serata Grazie a tutti